E' denominata ERCP, acronimo di colangiografia retrograda endoscopica, la nuova metodica operativa da questo mese all'ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo. Permette di curare i pazienti affetti da calcolosi delle vie biliari del fegato e il trattamento di alcuni tumori del pancreas e delle vie biliari, con risvolti positivi per il paziente come degenza meno prolungata ed una minore incidenza di complicanze rispetto all'intervento chirurgico tradizionale. La nuova attività introdotta nel reparto di chirurgia generale alcamese diretto dal dottore Massimo Pellegrino eviterà così a coloro che sono affetti da tali patologie di evitare di recarsi per le cure presso altri nosocomi come l'ISMET di Palermo o il Sant'Antonio Abate di Trapani, quest'ultimo fino ad ora l'unico in provincia a utilizzare tale procedura. La metodica si avvale dell'opera di due medici esperti in endoscopia operativa, i dottori Palma e Davolio, che fanno parte dell'equip chirurgica. Abbiamo attivato anche presso l'ospedale di Alcamo, oltre che a Trapani, accomunati da un'unica direzione medica di presidio, questo tipo di intervento, ha dichiarato il direttore generale dell'ASP, Fabrizio De Nicola, offrendo un nuovo servizio che accresce così l'operatività del nosocomio.